guarda quanti tutte le ricerche della testa del pesce perduto la cosa bella della pesca è che io quando stavo facendo quell'aspetto tutto mi sarei immaginato fuori che un branco di spiccole venisse così deciso e cattivo all'aspetto sono soddisfatto la soddisfazione alla fine dell'essere umano ma non in questo contesto non 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 è sempre bellissimo quando spuntano dal nulla in un tuff dove magari non ti aspetti di vendere nulla ma non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, a voi. C'è un po' la tanga di bubaccio millagrari. Sì, però secondo me la finisce subito perché c'è troppo vento. E ora lo spostiamo eventualmente. E' un pochino sotto per l'aria, spettacolo. E' un po' la tanga di bubaccio millagrari. Pensavo volessi fare i filetti. No, perché poi quando lo dobbiamo girare, la carne si attaccherà. Ok. Invece così lo riusciamo a fare meglio. Forza. E' un bello caldo. E' un bello caldo. Ah, mettiti sul pesce. Una, due, tre, quattro piedine. Ma penso due l'uno. Ma penso due l'uno. Vediamo. Una mezza l'uno. Che cosa ci vuole? Ci vuole qualcosa per girarlo. E' un bello caldo, vero? Abbastanza. Wow, guarda che c'è qua. Guarda che c'è qua. Guarda. Uh, favola. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ancora, ancora due, due, dodici minuti. Due, dodici minuti. Ero così affamato all'idea di mangiarci la spicola e mi ero dimenticato le cavigliere. Però adesso penso che sia arrivato il momento di consare la prima piadina. La mangitona o la mangierò la prima? Io. Cioè, che... La cavalleria. E allora? I gabbiani il pesce lo mangiano pure cotto? Non lo so. Caldo. Caldo, caldo, caldo. Ci dovevamo prendere pure tipo una forchetta o qualcosa. Ma noi siamo wild. Guarda che ti sta cadendo così tutto sul fuoco. Buono, guarda. Ma io mi mangio la mia piadina. La pelle del pesce è la cosa più buona che c'è. Vero? Con tutte le squame. Però quando è croccante. Lasciate un like al video se ancora non l'avete fatto. Vedetemi a trovare nella pagina Facebook e nella pagina Instagram. Per rimanere aggiornati nei momenti di stop. E che dire? Grazie. No. So put your hand in my mind I will be there every day When you're sick of the climb I will make sure it's okay Oh, you didn't ask for any of this But we need for... Grazie a tutti.